Questa è la pizza di McDonald's Avete mai provato la pizza di McDonald's? Bene, questo è il McDonald's più grande del mondo e hanno anche la pizza Questo è il menù di pranzo Nella sezione sandwich, oltre a un sacco di panini giganti Abbiamo costruiti la tua pasta Puoi scegliere delle robe assurde Il bacon E poi puoi scegliere ovviamente il tipo di pasta Stessa cosa per la pizza Poi il tipo di salsa Il cheddar No, andiamo sul classico Ed eccola 10 dollari e 48 Ok, proviamo la pizza del McDonald's È super unta Guardate come gocciola l'olio ovunque Devo dire che non è terribile Cioè nel senso si fa mangiare A parte le mani che restano untissime Ho mangiato pizza peggiori Se passate di qua secondo me ci può stare a provarla Poi non la consiglierei assolutamente Però